Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro un accessorio molto carino che racchiude in sé ben quattro funzioni. Questo oggetto funge infatti da lampada, speaker, stand per smartphone e caricabatterie wireless. Ecco qui il pacco che arriva direttamente da Amazon andiamo a fare l'unboxing così vediamo insieme il prodotto di oggi. Ovviamente se siete interessati all'acquisto vi lascio il link in descrizione come sempre. Il prezzo è anche abbastanza economico. Questa è la confezione che devo dire non è troppo elaborata, piuttosto semplice, sul fronte è raffigurato il prodotto, sui lati le funzioni di questo prodotto e sul retro le specifiche tecniche. Andiamo ad aprire la confezione e all'interno troviamo un manuale utente molto ma molto streaming sito. Troviamo poi un cavetto USB da un lato e Type-C dall'altro, cavetto che servirà ad alimentare il prodotto. Ed infine troviamo il prodotto in sé. Vediamo allora questo oggetto multifunzione da un punto di vista fisico. Innanzitutto è realizzato in plastica rigida, una plastica molto resistente che dà subito al tatto l'idea di solidità. L'oggetto multifunzione è caratterizzato innanzitutto da un grande speaker centrale, che ha sul retro un'ampia cassa. Questo speaker può essere collegato via Bluetooth allo smartphone o a qualsiasi altro dispositivo dotato di Bluetooth e può quindi riprodurre le nostre canzoni preferite a tutto volume. Per collegare lo speaker al Bluetooth bisognerà cercare sul proprio dispositivo la voce 966-M606-4Q corrispondente allo speaker e cliccarci sopra avviando la connessione. Così facendo sarete pronti a far riprodurre la vostra playlist allo speaker. Iscrivete Grazie a tutti Sul fronte non si può non notare questa grande striscia LED di forma circolare che si presterà sia alla funzione di lampada da notte sia alla funzione di lampada RGB per creare atmosfere colorate che vanno anche a ritmo di musica. La funzione lampada da notte ha tre diverse intensità luminose intercambiabili con la pressione del pulsante touch posto sulla parte superiore dello speaker. Potremo quindi passare con un semplice tocco da una luminosità bassa ad una media e ad una alta. Con la pressione prolungata del medesimo pulsante invece passeremo alla funzione RGB che vedrà scorrere sul LED circolare tutta una serie di colori. Se poi a questa modalità accoppiamo un po' di musica i colori della lampada seguiranno il ritmo delle canzoni. Alla base e dalle estremità destra e sinistra si trovano queste tre estensioni in plastica che vanno a realizzare uno stand per l'altra. Lo smartphone potrà essere posizionato sullo stand sia in posizione orizzontale adagiandolo sui due bracci destro e sinistro sia in posizione verticale adagiandolo invece sulla base. Tutte e tre le estensioni sono ricoperte da tappetini in silicone che eviteranno allo smartphone di poter scivolare. Infine al centro del grande speaker troviamo un caricatore wireless da 15 watt di potenza il quale consentirà di ricaricare dispositivi che hanno una predisposizione alla ricarica wireless. Il mio smartphone purtroppo non possiede questa caratteristica tuttavia ho degli auricolari che supportano questo tipo di ricarica e basterà appoggiarli per attivare la ricarica. E andiamo ora alle conclusioni finali riguardanti questo prodotto. A mio parere è un prodotto molto comodo in quanto consente di svolgere ben quattro funzioni in uno ed è anche abbastanza economico. Proprio per questi motivi potrebbe essere un'ottima idea regalo in tutti quei casi in cui non si sa proprio cosa regalare. In mezzo a quattro funzioni credo che almeno una sarà utile a chi lo riceve. Quindi se questo prodotto vi interessa io come al solito vi lascerò tutti i link per l'acquisto in descrizione. Se questo video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate recensioni, unboxing e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!